Ah che bello, è finita l'estate, comincia a far freddo, c'è la felpa sulla sedia, il telefono ricomincia a squillare, diciamo un po'... Tutto torna alla normalità, si torna al lavoro, i figli tornano a scuola, i ragazzi giovani tornano a scuola e Luca pubblica un video non di domenica. Quindi mentre tutto torna alla normalità io faccio qualcosa di diverso, sì, capita un po' a tutti di voler mescolare un po' le carte in tavola e cominciare a coinvolgere chi è tornato al lavoro. Questo per farvi avere una giornata migliore o i consigli giusti. Cosa significa? Sono qui con questa mia a dirvi, citazione del grande Totò, che da oggi voglio provare a fare un esperimento. Voi come sapete io pubblico quattro video mensili, uno ogni domenica. Ad ottobre i video che pubblicherò e che realizzerò li deciderete voi. Come li deciderete voi? Beh è facilissimo. Basta scrivere un commento qui sul canale YouTube, potete mettere mi piace alla mia pagina Facebook dove pubblico gli stessi contenuti di YouTube e do qualche informazione, qualche notizia che mi è capitata. Potete seguirmi su Instagram perché lì pubblico qualche fotografia quando sono in giro o qualche sneak peek di quello che faccio quando compro qualcosa che poi recensirò o mentre sto facendo qualcosa oppure mentre sono al bagno perché capita anche quello. E per chi di voi è così nerd può anche seguirmi su Twitter. Vi ho detto che abbiamo quattro video da realizzare. Come sceglieremo questi video da realizzare? Beh, voi farete le proposte. Naturalmente devono essere proposte intelligenti, non esagerate e soprattutto realizzabili. Quindi possono essere tutorial, possono essere dei Q&A, quindi parlare di qualcosa. Potete propormi di recensire qualche prodotto, naturalmente proviamo a recensirlo, non so se ci riuscirò a procurarmelo, a farlo prestare. Ma tutto questo me lo direte voi. Come fare per proporre un'idea? Beh, prima di tutto potete tranquillamente scriverlo qui nei commenti con l'hashtag LucaPensaciTu. Stessa cosa su Instagram, potete taggarmi in qualsiasi video, mi viene da ridere perché l'hashtag lo ho messo in questo momento e mi fa sorridere perché me l'hanno detto su un set qualche volta, LucaPensaciTu. Potete condividere, potete taggarmi su uno dei vostri contenuti, fotografie di Instagram, sempre con l'hashtag LucaPensaciTu. Stessa cosa su Facebook, potete commentare qualsiasi cosa io pubblichi e per fare la richiesta basterà semplicemente scrivere hashtag LucaPensaciTu e mi fate la vostra domanda. Stessa cosa su Twitter, non so chi lo usa ancora Twitter, però stessa cosa su Twitter. Così facendo proviamo a capire quello che a voi piace e cercherò di fare quello che a voi piace. Quindi vi lascio qui in descrizione tutti i contatti per poter cliccare e mettere l'hashtag. Beh, cos'altro dirvi? Aspetto le vostre idee. Noi ci vediamo domenica con un nuovo video.